I prossimi due brani sono due sonetti di André Capelet. Il primo, molto breve, ricorda un sogno. Infatti il titolo, Can reverash, elas, vuol dire appunto quando sogno, oddio. Elas è un'esplamazione. Il secondo invece parla della dolcezza di un amore che era, che è stato. Il secondo invece parla della dolcezza. 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 Il secondo invece parla della dolcezza.